Ciao ragazzi e venuti in questo nuovo video Ecco lui farà delle domande in questo video Tipo questa Chi dovrebbe pagare per il primo appuntamento? Lasciandolo rispondere prima all'uomo confuso Dal momento che Ormai diciamo non del tutto Ma prevalentemente la parità dei sessi Si è ottenuta si potrebbe anche Pensare a qualcosa di fuori Dalle righe fuori dagli schemi e quindi si potrebbe Anche pensare che al primo appuntamento Possa pagare la donna anche per diciamo Non per una... Basta ho vomitato abbastanza Chi deve pagare? Come si chiama quella pratica Dove praticamente la donna ha quel pisello Finto e incula l'uomo Immagino questo è il rapporto Che questo uomo un po' confuso Possa avere con questa donna che ha appena Conosciuto Sentiamo prima la risposta dell'uomo Che si fa inculare dalla donna Col pisello finto Ah mi sono scordato di dirvi che queste Domande sarebbero le domande Che le donne hanno paura A fare agli uomini E quindi detto questo Se una donna mi chiede una domanda del genere Io la... Io la femminicida Vuoi sposarti? Ehm... Questa è una domanda Molto soggettiva E che ti ha chiesto se c'hai il dildo? Quanto vi serve per entrare nel mood Del sesso Pochi click Devo dire che Se la mettiamo No io appena sento qualcuno dire Devo dire che io scappo È meglio più make up O meno make up? Da come l'hai detto Mi sembra che tu fai uso di make up Mi piace dare del lavoro extra Al mio montatore Che si deve adesso ingegnare Per trovare una cosa del genere Sta che c'ha il montatore personale Paga uno schiavo Per montare le sue vomitate Come le vivete le mestruazioni? Come le vivete le mestruazioni? Sono vicino a tutte le donne Che ovviamente Si portano dietro questo enorme peso Cioè Beh beh Vi infastidisce se la vostra ragazza Ha tanti amici maschi? Si non voglio stare con una mignotta Volete sapere cosa c'è nella nostra mente? No Cosa rende bello il sesso? Sicuramente la complicità Perché farlo da solo In realtà voleva dire uno strapon Qual è il primo appuntamento perfetto? Primo appuntamento Secondo appuntamento Questa è roba per voi checche A noi ci portano questa donna I loro genitori Ce la consegnano E sono grati che noi l'abbiamo presa E possiamo fare di lei quello che vogliamo E' importante per una ragazza essere vergine? Certo checca E' come se a te D'essere una bambola gonfiabile bucata No Non è per niente importante Siamo nel 2022 E' giusto che ognuno faccia le sue esperienze Non credo che gliene fotta niente a nessuno Non avevo dubbi che la pensavi così checca E se vi interessa Avete dei problemi Fatevi curare da uno bravo Perché potrebbe essere un disturbo psichico Vi piace fare i regali? Onestamente si A me tutto quello che è galanteria Sto vomitando Carineria verso la ragazza Una ragazza dovrebbe chiedervi di uscire? Perché no? Secondo me sotto questo punto di vista invece l'emancipazione è giusta Giusto Le ragazze dovrebbero uscire con le ragazze Giusto Perché i ragazzi non sono così sensibili? Non sono così in contatto con i propri sentimenti? Perché il cervello maschile è molto più semplice di quello femminile? Ammettiamolo ragazzi Il tuo si zombie Cosa rende una ragazza? Tro... No non ce la... Non posso Mi stanno guardando potenzialmente centinaia di miliardi di persone Come faccio a rispondere? Cioè sta checca non riesce a dire alle troie troie? Puoi perdonare un tradimento? Oh Allora rispondiamo in maniera seria Perché anche questo video deve anche dare delle risposte concrete Se mettete che c'è una ragazza che vuole effettivamente saperlo Secondo me sì Si può perdonare un tradimento Ah Essere i vomitevoli che vivete in un mondo che vi tradisce costantemente E ci state bene Schifezze Dipende sempre dalle situazioni Da quante volte avviene questo tradimento Io per esempio il tradimento se capitasse in un momento di O distrazione O in un momento in cui effettivamente ci sono dei problemi Troppo vomitevole In un prossimo video risponderò con la mia ragazza Solo se questo video però arriva a 20.000 like In caso contrario Ve la pigliate nel... No in culo lo prendi te tutti i giorni Dalla tua ragazza Dal sistema Da tutti Come le vivete le mestruazioni?